Oggi andremo a recuperare due cinghiali, sopra la strada tra il paese di Moleno e quello di prosito. I cinghiali erano stati cattolati ieri, ma visto il terreno molto impervio, si è deciso di lasciarli sul posto e di venire oggi a recuperarli, anche con l'impiego di corde. Quattrocentrenta e cincent sessanta, 1000 metri, 100 metri, più o meno. E' un po' di più che è il tuo gioco. Ma ci sono due volte però! E' un po' di più che è un po' di più. E' un po' di più che ti tocca la pella, come in alla mira. è la stranola è è ma ma è è è è è è Sì, vabbè. E' la mia e' l'inchio. E' la mia e' l'inchio. E' la maccio dentro. E' la mia e' l'inchio. E' la mia e' l'inchio. E' la mia e' la mia e' la mia e' la mia. Si tratta di un maschio di 95 kg e di una femmina di 90 kg. Puglia di 100 kg e di 60 kg. Pagano di 100 kg. Si tratta di 100 kg. Pagano di 100 kg. Grazie a tutti. 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 Siamo pronti per partire. Destinazione macelleria. Sicuramente i cinghiali verranno trasformati in salametti. Grazie a tutti.